Oggi vediamo come un testimone di Geova, come dovrebbe fare uno studente biblico per diventare testimone di Geova e sarà anche un esperimento sociale perché questo sarà anche interessante da parte mia farlo, cioè come io rispondo alla loro dottrina rispetto a come l'ho fatto in passato. Ecco, questo sarà utile vedere proprio il cambiamento da parte mia, poi magari qualche riflessione ve la farò durante il video. E quindi direi di iniziare a calarci in questa conoscenza sublime della loro dottrina e vediamo se magari tra voi c'è qualche potenziale i testimoni di Geova, non scherzo ovviamente. Mi auguro di no, ecco, mi auguro di no. Perché alcuni mi dicono dei testimoni di Geova, grazie che ci fai pubblicità così le persone vengono a capire cosa diciamo noi e noi gli diciamo la verità. Sì, sì, infatti la maggioranza di persone, quasi la totalità delle persone, io ne conto solo una con cui avevo a che fare e si vuole battezzare, ho perso i contatti, perché probabilmente, poi magari ne parlerò in un video di questa storia qua. Però poi il 99,9% delle persone, io ho contribuito a farle uscire e non a farle entrare. Ecco, quell'uno lì era una persona che era già plagiata per i fatti suoi. E va bene, va bene, andiamo, andiamo a postatacci, caliamoci in questa mega super galattica. Eh, Antani, come se fosse Antani, anche per il direttore, la super cazzo ha lo scappellamento. Come? A destra. Ecco lo scappellamento a destra della super cazzo ha prematurata, direi che possiamo avviarci verso questa meravigliosa esperienza conoscitiva delle grandi bellezze dell'universo e di questo Dio meraviglioso, eh? Di questo Dio che ci vuole fare vivere per sempre, vedete? Volete vivere felici per sempre, il corso biblico interattivo, che meraviglia, eh? Che meraviglia! Partiamo già con questo esploat di positivismo, di positività, direi New Age. Io ieri ero a fare una ricerca sul sito di Scientology, in un prossimo video uscirà qualcosina che vi farò vedere di interessante. E vedo che c'è lo stesso tipo di comunicazione, eh? Questa speranza che ti viene subito... te la portano, no? Gaber diceva gli americani portano la democrazia, pum! Sono portatori sani di democrazia, nel senso che a loro non gli fa niente, però te l'attaccano, questa era una battuta, ovviamente, questa era una battuta. E i testimoni di Giova cosa sono? Sono portatori della verità, no? L'unica verità te la portano, no? Come un blocco, tieni, questa ti deve andare bene, eh? Che tra l'altro non c'è manco soddisfatti o rimborsati, perché se poi non siete soddisfatti, vi attaccate al tram, eh? Vivere per sempre felici e spensierati, direi, soprattutto senza pensieri, la tua vita sarà chi vorrà vivrà in libertà, Hakuna Matata. Niente, scusate, ma oggi sono un po' delirante, ecco, prendiamola un pochettino così. Cosa dice questo meraviglioso corso biblico, eh? Dice questo libro, usato nell'ambito dei nostri corsi biblici gratuiti, è pensato per chi vuole seguire un corso per lo studio della Bibbia. Io potrei veramente soffermarmi su qualsiasi loro frase, questo libro è usato nell'ambito dei nostri corsi biblici gratuiti. Ma già quando una persona vi propone qualcosa di gratuito, quando vi offro un servizio gratuito, cioè, nella maggioranza dei casi, è un servizio scadente, dai, diciamocelo tranquillamente. Cioè, chi è che fa le cose a gratis, eh? Anche io stesso, su questo canale, se non avessi la monetizzazione, devo essere sincero, non potrei produrre tutti questi contenuti che faccio, le ricerche, perché dovrei fare alto, sostanzialmente. Quindi, se non avessi un rientro economico, è inutile che ci giriamo. Ma il corso biblico è gratuito, sì, però la Watchtower si becca un bel po' di donazioni, eh? Veramente un bel po' di donazioni, quindi. I testimoni di Java, che non sono pagati per fare sta roba qua, lo fanno gratuitamente, certo, perché sono dei volontari, ma alla base non è che ci siano delle università che ti insegnano cos'è realmente la Bibbia. Non stiamo parlando di università, di, non so, per studiare le lingue antiche, lettere antiche, che ti può dare degli spunti per capire se le traduzioni sono fatte bene, cioè far le cose serie, far le cose serie. No, ti parlano di queste loro interpretazioni religiose che sono... ognuno c'ha le sue, i mormoni c'hanno la loro, gli evangelici c'hanno la loro cosa, ognuno c'ha la sua interpretazione. Pubblicità, marchetta per l'estate, scusate ma c'ho sete, e mi si secca la bocca, quindi ogni tanto farò questa pubblicità per l'estate. Ferrero, grazie, girami un po' qualcosa, eh, per cortesia, visto che parliamo di roba gratuita, eh, la marchetta paga ma... Allora, vediamo come puoi trarre il massimo beneficio da questo corso biblico. Cosa dicono? Ci danno un video benvenuto del corso e io direi di guardarlo perché io non voglio tralasciare niente di questa meraviglia del marketing. Benvenuto al tuo corso biblico. Milioni di persone in tutto il mondo sono felici di seguire questo corso biblico interattivo. Speriamo che lo sarai anche tu. Cosa imparerai? Imparerai come avere una famiglia felice? Come affrontare i problemi? Come puoi avvicinarti di più a Dio? E perché puoi sperare in un futuro migliore? Sono almeno convinto, non so. Come si svolgerà questo corso? Prima di considerare una lezione, il tuo insegnante potrebbe iniziare con una breve preghiera. Poi, insieme... Eh, cari apostatazzi, che dire, se ci potrebbe fare un video intero solo per questo video che abbiamo visto. Sostanzialmente quello che fanno le religioni di stampo, così, statunitense, è proprio quello di proporti la Bibbia in una chiave di lettura, proprio New Age mi verrebbe da dire, non trovo altri termini migliori. La chiave di lettura è la Bibbia ti serve per migliorarti la vita. E qua c'è una fallaccia argomentativa devastante perché la Bibbia no, non è questo. La Bibbia è un insieme di libri scritti in un ventaglio di, insomma, di tanto tempo. Ora, per evitare errori, insomma, dico centinaia di anni, centinaia e centinaia di anni. E quindi, la Bibbia che scopo ha? Perché loro te la pongono come se fosse un unicum, e lo vedremo forse dall'inizio, perché parlano di autore della Bibbia e Dio. come se Dio, in un certo senso, dà un po' l'idea a chi non sa nulla. Io non sapevo nulla quando studiavo nei Testimoni di Geova. Questa immagine dà un po' l'idea che Dio abbia, questo Dio abbia, in qualche modo, influito sulla mente dello scrittore, che poi ci ha riportato le cose come lo Spirito Santo, Dio, eccetera, ha voluto riportare. Cioè, nello studente si innesca un po' questa immagine qua. Ad esempio, mi viene da dire, l'interpretazione di cos'è l'ispirazione secondo la religione cattolica è diversa. Quindi qua ci troviamo in un ambito antropologico. Non è un dato di fatto che la Bibbia sia considerata in un certo modo. Bisogna capire che sono gli esseri umani, nella loro complessità e nella loro diversità di, insomma, di vedute, che considerano chi in un modo, chi in un altro, la Bibbia. Ecco, quindi c'è un pretesto iniziale che è del tutto arbitrario e non è dato da un dato di fatto. Cioè, la Bibbia è così. Cioè, se nella Bibbia, nel primo capitolo ci fosse scritto voi la Bibbia la dovete interpretare così come una sequela di aiuti che vi possono servire nella vita quotidiana di tutti i giorni, ecco, potremo dare ragione ai testimoni di Giova. La Bibbia non ha questo scopo, non sembra porsi questo scopo. La Bibbia è un resoconto di un popolo, inizialmente degli israeliti, degli ebrei, e poi dopo di una... mi spiegassero delle cose tecniche sulla Bibbia. Invece, se notate, questo corso biblico è partito con delle premesse infantili. Questo corso, secondo me, sarebbe Plasmon, anzi neanche, sarebbe Latte. È Latte per i bambini. Plasmon magari viene dopo il Plasmon o qualsiasi omogeneizzato. Vengono dopo. Questo è Latte materno. Non c'è nulla di intellettualmente particolarmente efficace o di difficile comprensione. Voi sapete che la realtà è complessa e scadere nella semplicità siamo nel campo in cui le sette e il complottismo sguazzano, cioè semplificare i concetti al minimo per farli capire anche a una persona, non dico normodotata, ma anche una persona che ha una cultura bassissima. Questa è la caratteristica, ve lo dico sempre, della propaganda anche politica, cioè fare slogan brevi, efficaci, che mirano alla pancia più che alla testa. E noi vedremo che questo corso, sono quasi sicuro, anche se ho dato un'occhiata veloce ai capitoli, ma non è che li ho approfonditi, come vi ho detto. E andiamo al capitolo, alla parte 1. Vedete che qua ci sono quattro sezioni e poi iniziamo. Parte 1. Qua ci fa vedere tutti i capitoli. In questa parte scopri come può aiutarti la Bibbia e come puoi conoscere il suo autore. Ed eccoci qua. Questo un po' l'avevo letto, perché come avevo detto ai capitoli li ho visti, qua parlano di autore, come quasi un po' vogliono imprimere un po' nella testa dello studente che la Bibbia sia in qualche modo quasi simile a quello che dicono gli islamici, cioè sul Corano, che è stata dettata proprio da Allah. Non è così. Non è così. Però loro ci vogliono avvicinare a quella cosa lì come per far vedere che quello è il libro di Dio, punto. Fine della questione finita, quello è il libro di Dio, punto. Così è scritto, è inerrante, cioè infallibile, scientificamente accurato. E poi queste cose le vedremo. Allora, i capitoli, leggiamoli velocemente, sono Come può aiutarti la Bibbia? La Bibbia dà speranza. Puoi credere nella Bibbia? Guardiamoli una alla volta. Tanto sono dodici, li guardiamo una alla volta. Come può aiutarti la Bibbia? Tutti ci facciamo domande sulla vita, sulla morte, sulle sofferenze e sul futuro. Eccoci al focus. Nel marketing bisogna individuare, quando si vende un prodotto, questo prodotto, qual è il target di persona a cui vuoi arrivare. E qua subito abbiamo iniziato a tracciare questa cosa che era presente anche negli altri libri di studio del passato. Cioè tutti ci facciamo domande sulla vita, sulla morte, sulle sofferenze. Quindi qua si parte su cos'è la vita, sul perché si muore, sul perché si soffre e sul futuro che ci genera comunque ansia, soprattutto ai tempi nostri. Quindi queste insicurezze esistenziali e queste paure sono ovviamente il cardino un po' di tutte le religioni, ma mi verrebbe da dire che solo nei testimoni di Java e in altre realtà sono così utilizzati proprio come, diciamo, propaganda per far aderire le persone. Quindi si parte a sfruttare quelli che sono dei bisogni emotivi delle persone e delle paure, appunto. Le paure sono ataviche. Perché è un nostro processo che nella natura ci serve la paura, ha una sua funzione. Ecco, loro proprio per questo vi dicono morirete, soffrirete, ma perché ecco loro vi portano la soluzione praticamente. Lezione 1. Come può aiutarti la Bibbia? Tutti ci facciamo domande sulla vita, sulla morte, sulle sofferenze e sul futuro. Ci preoccupiamo anche di cose quotidiane, ad esempio di come guadagnarci da vivere o di come avere una famiglia felice. Molti hanno riscontrato che la Bibbia non solo risponde alle grandi domande dell'uomo, ma dà anche consigli utili per la vita di tutti i giorni. Tu cosa ne pensi? La Bibbia può esserci d'aiuto? Qualsiasi libro può essere d'aiuto. Qualsiasi libro può essere d'aiuto. Non sta dicendo niente questa frase. Cioè non eleva la Bibbia a un libro superiore agli altri. Qualsiasi libro può essere d'aiuto. Punto 1. A quali domande risponde la Bibbia? La Bibbia risponde a queste importanti domande. Com'è nata la vita sulla Terra? Perché esistiamo? Perché si soffre? Cosa succede quando si muore? Se tutti vogliono la pace, perché ci sono le guerre? Cosa succederà alla Terra in futuro? Se tutti vogliono la pace, perché ci sono le guerre? E' un ragionamento idiota. Perché ci sono dei momenti in cui le nazioni vogliono la guerra. basta guardare il nazismo. Basta guardare la Russia oggi. Ha scelto di entrare in guerra. Mica gliel'ha ordinato il dottore. Ha scelto di andare in guerra. Di dichiarare guerra all'Ucraina. Durà da più di due anni. Non è vero che tutti vogliono la pace. Ci sono dei momenti in cui c'è la guerra. La guerra capita. E' brutto da dire. Capitano le disgrazie. Capita anche la guerra. Quindi, questa è una falsa retorica. Cioè, questi tutti, chi sono tutti, tutti, tutti? Ma di che stiamo parlando? Non esiste che tutti vogliono la pace. E' come dire che tutte le persone sono buone. Non è vero. Ci sono persone che fanno il male. Andatelo a dire, è un serial killer? Ho un capo di Stato che si fa pochi problemi a dichiarare guerra a un altro Stato. Dove ci sono persone buone, quelle lì. Ci sono delle persone funzionali. No. Però ci sono anche loro. Non è vero che tutti vogliono la pace. Ci sono delle persone sadiche. Ci sono degli psicopatici, dei sociopatici. Non è vero che tutte le persone vogliono il bene. Ci sono persone che godono a veder soffrire altri. Quindi è una cazzata questo assunto. Veramente una cazzata. Però loro fanno sempre leva sulle solite domande. Come è nata la vita sulla Terra? Perché esistiamo? Perché si soffre? Cosa succede quando si muore? Cioè tutte le domande che sono di una complessità infinita, su cui la filosofia dibatte da migliaia di anni, si può dire. Migliaia di anni. Arrivano loro con la Bibbia alla mano e vi danno la risposta semplice al problema complesso. E la cosa è che funziona, è che è semplice da recepire. Non è difficile, non bisogna studiare chissà che per comprendere certe cose. La Bibbia ci incoraggia a farci queste domande e ci dà risposte che milioni di persone hanno trovato convincenti. Punto 2 Come può aiutarti la Bibbia nella vita di tutti i giorni? La Bibbia dà buoni consigli. Ad esempio, spiega come avere una famiglia felice, come gestire lo stress e come essere soddisfatti del proprio lavoro. Man mano che esamineremo insieme questa pubblicazione, scoprirai quello che la Bibbia dice su questi argomenti e su molti altri. Riscontrerai che tutta la scrittura, cioè tutta la Bibbia, è utile. Secondo Timoteo 3,16 Capito come ci può aiutare. Dai, andiamo a vedere. Io non mi dilungherei ulteriormente su sta cosa. È anche normale che si sponsorizzi bene un prodotto. Questo non lo reputo una cosa strana. Questa pubblicazione non sostituisce la Bibbia. Ti incoraggia piuttosto a esaminarla. Quindi, ti invitiamo a leggere i versetti contenuti in queste lezioni e a metterli a confronto con quello che stai imparando. Peccato che la loro Bibbia sia manipolata. Magari se capiterà vedremo qualcosina. Ora vai più a fondo. Scopri come la Bibbia ha aiutato molte persone, come puoi rendere piacevole la lettura della Bibbia e perché per capirla è importante farsi aiutare da qualcuno. Ah, bisogna farci aiutare da qualcuno. Qualcuno che se la interpreta alla loro maniera. Kant. Illuminismo. Risposta alla domanda che cos'è il luminismo di Kant. Ve la faccio vedere spesso. Non so se si vede bene qua. Abbasso un pochettino. Eccola qua. L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è questa minorità se la causa non dipende da difetto di intelligenza ma dalla mancanza di decisione e di coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza è questo motto dell'illuminismo. Questa frase di Kant è stato uno dei miei mantra da quando sono uscito da lì. poi magari dopo avremo anche l'occasione di vedere altri che ogni tanto mi escono fuori queste cose che mi riguardano. Quindi loro dicono l'esatto contrario devi farti aiutare lo dicono proprio testualmente devi farti aiutare da qualcuno e io ho questa frase non la scarto neanche è come dire è ovvio che se vuoi capire qualcosa ad esempio di fisica vai da un professore di fisica da qualcuno che l'ha studiato oppure ti compri un libro che è stato scritto da dei fisici ha senso la frase farsi aiutare perché non è che nasciamo col sapere infuso il problema è però è capire se c'è una una conoscenza vera imparziale che è scientifica possiamo dire utilizzare questo termine o se loro propongono un corso fuffa ci sono tanti corsi fuffa no? è come dire vado da un sessuologo a parlare dei miei problemi o un esperto di relazioni che ha studiato per anni psicologia e tutto ha fatto tutto il suo il suo iter per diventare un professionista oppure vado da un un coach di quelli sentimentali da da youtube di quelli che vi insegnano che dovete dovete mettere in atto la triade oscura no? narcisismo macchiavellismo queste cose qua per avere successo con le donne no? queste puttanate da sadici malattimentali non saprei come chiamarli non è così tant'è che io poi in un video ne parlerò di questi corsi per rimorchiare le donne queste puttanate allucinanti quindi io se ecco se devo risolvere un problema se voglio conoscere qualcosa di tecnico di 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 difficile io vado da un esperto ma un esperto vero bisogna anche averla questa questa capacità di capirla sta cosa qua molta gente purtroppo che ha una grandissima gravissima mancanza di cultura preferisce affidarsi a a questi che vi propongono queste soluzioni ridicole veramente ridicole no punto 3 la bibbia ci guida la bibbia è come una torcia potente che illumina il nostro cammino ci fa vedere con chiarezza come prendere buone decisioni e fa luce su cosa accadrà in futuro salmo 119 105 dice la tua parola è una lampada per il mio piede e una luce sul mio cammino cosa pensava della bibbia lo scrittore di questo salmo e tu cosa pensi della bibbia punto 4 la bibbia risponde alle nostre domande una donna ha trovato nella bibbia la risposta a domande che si faceva da molti anni ascolta l'audio del video non perdere mai la speranza per i contenuti multimediali della lezione 1 consulta la pubblicazione puoi vivere felice per sempre su jw.org allora io vorrei invece ogni tanto vi apro delle piccole parentesi indirizzare a questa cosa qua non ti manchi mai la gioia questa conferenza di Vito Mancuso che presenta il suo libro qua vedete un lama tra l'altro una persona molto simpatica devo dire Vito Mancuso non ti manchi mai la gioia presenta il suo libro ascoltatevi questa conferenza e poi se leggete il libro io lo devo ancora comprare lo comprerò in questi giorni però già qualcosina ho letto di quel libro lì ne parla ampiamente anche in questo ecco se volete stare bene andate su queste cose qua sulla filosofia su queste belle menti che ci abbiamo anche in Italia Vito Mancuso è il mio preferito vi dico la verità di tutti Vito Mancuso è quello che più si avvicina a quella che è la mia concezione dell'esistenza dico mia perché me la sono un po' strutturata io un pezzo qua un pezzo là un pezzo su un pezzo su un giorno sento parlare Vito Mancuso e dice ma sta persona che per me è un capolavoro sta parlando delle stesse cose che che ho sentito anch'io no ve lo consiglio altro che queste minchiate da setta di cui stiamo parlando Vito Mancuso non ti manchi mai la gioia andiamo a vedere il video di questi di questi qua non perdere mai la speranza ho sempre voluto fare l'insegnante era un lavoro molto gratificante però sentivo che mancava qualcosa nella mia vita vedevo bambini che erano disabili non che avessero fatto qualcosa di sbagliato erano solo nati così allora pensavo non ha proprio senso Dio è amore quindi può mettere a posto tutti questi problemi perché non lo fa poi una ragazzina della mia scuola fu in grado di dare la risposta alle mie domande mi chiese sa che sono una testimone di Geova le piacerebbe conoscere meglio i testimoni di Geova così pensai sì voglio saperle di più viene a trovarmi un giorno così mi parli dei testimoni di Geova quando venne a casa mia la settimana dopo io ascoltavo e lei spiegava mi mostrò come usare la mia Bibbia per trovare le risposte e improvvisamente trovo una risposta e poi un'altra e poi un'altra il fulcro di tutto il plagio mentale eccolo qua racchiuso in un'immagine questa immagine dice tutto dice veramente tutto e mi rievoca anche ricordi del passato avere da una parte il libro di studio e poi la loro Bibbia manipolata eccolo qua questo è proprio tutto il litter di plagio dei testimoni di Geova che a volte si dice ma come fai ad essere ingannato eccolo qua in questa struttura sociale in cui lo studente si trova in una condizione di minoranza numerica cioè essere da solo e predisposto attenzione perché se è qui è predisposto vuol dire che l'esca ha funzionato il pesce ha boccato come avevo boccato io per tutta una serie di questioni soprattutto emotive eccoci qua ma anche spirituali non emotive anche molto spirituali io ero alla ricerca dello scopo dell'esistenza mi muovevo proprio in altri campi religiosi filosofie orientali per capire indagare dove sta dove devo andare per capire ecco io ovviamente mi sono trovato poi a contatto con i testimoni di Geova e le insegnanti che avevo era una la mamma di una mia amica di due mie amiche e l'altra era una testimonia di Geova quindi diciamo che c'era un'euristica dell'amicizia di mezzo quindi le parole che mi diceva la mamma della mia amica avevano un'autorità diversa su su di me quindi avevo una predisposizione all'apertura non è che mi stava insegnando uno sconosciuto quindi già ci sono diversi elementi lo studente che è da solo le obiezioni vengono praticamente annichilite per chi ripeto è predisposto perché poi se si trovasse qua una persona consapevole e tutto obieterebbe li zittirebbe in mezzo secondo perché le falsità le stupidaggini che dicono i testimoni di Geova le stronchi in mezzo secondo il problema è che per chi è predisposto io direi acquiescente è il termine secondo me che calza di più ecco che in una condizione di minorità proprio numerica di minoranza numerica è molto efficace questa euristica sociale quindi qua abbiamo bene due per ora così a naso sta cosa non è che me la sono preparata sto valutando a naso che c'è due euristiche che sono le semplificazioni che noi facciamo mentali che poi generano i bias cognitivi dopo ecco l'euristica è questa cioè partire da una semplificazione cioè lei è mia amica la sto ascoltando magari se non fosse mia amica le cose che dice non gli darei il peso che gli do essendo che lei è mia amica capito ecco qui abbiamo quindi l'euristica sociale cioè loro sono in maggioranza numerica quindi ma se due persone mi dicono sta cosa perché io dico il contrario eccola qua l'euristica sociale loro ti ribattono e cercano di far sentire stupido lo studente loro tutte e due all'unisono ti dicono la stessa cosa e tu gli dici ma a me sta cosa qua tipo io mi ricordo che obiettai con le guerre di israele nell'antico testamento e mi feci andare bene la risposta perché loro mi dissero una cosa tipo sai ci andavano di mezzo le persone peccaminose eccetera eccetera su e giù e io non conoscendo bene le scritture so boccato a questa narrazione mi dicevano tutte e due la stessa cosa io non avevo nessuna esperienza di plagio mentale di sette di niente ero ripeto una preda perfetta perché ero nella mia ricerca spirituale avevo dei bisogni emotivi da soddisfare di parlare avevo tantissimo bisogno di parlare di buttare fuori quello che sentivo dell'esistenza di queste cose qua e avevo trovato campo fertile negli studi della Bibbia con loro è che nel mentre che io buttavo fuori questa mia esigenza dall'altra parte mi entrava quello che era il plagio mentale io mi stavo gradualmente plagiando in un anno e mezzo mi sono plagiato questa era la condizione io ero da solo al posto di questa donna e dall'altra parte c'erano due donne testimoni di Giova poi dopo lo studio è passato dopo pochi mesi sei mi pare sei mesi dopo sei mesi di studio con loro è subentrato quello che è diventato un mio amico che mi ha portato al battesimo e poi lo studio lo facevo con il mio amico e un anziano o degli anziani o altri testimoni di Giova comunque ero passato poi in mano ai maschi perché sapete che per loro poi lo studente deve interfacciarsi con le persone del suo sesso che insomma non tengono lo studio sempre fisso con due donne all'inizio lo inizia la persona che ha l'ascendente sociale poi dopo lo studio passa ad uno ad uno ad un insegnante chiamiamolo così che ha lo stesso sesso dello studente anche perché evidentemente sarà un modo per valutare se la persona era lì solo perché magari aveva soltanto piacere a stare con le donne con due donne anche se tra me e loro c'era un divario di età che era bello grosso oppure se c'è veramente ciccia se è veramente interessata all'argomento io ero veramente interessato infatti sono arrivato al battesimo con un ragazzo più piccolo di me che mi insegnava e un anziano che era lì anche lui insegnava diciamo direi che possiamo andare avanti so che ho un'altra cosa da dire su questo in questa immagine in questo video si vede anche una professoressa un'insegnante di scuola che riceve l'insegnamento da una sua allieva quindi vedete che c'è anche un po' ribaltamento del paradigma qua si vuol far vedere alla persona che sta studiando guarda la verità è talmente elevata che addirittura la studente può insegnare alla professoressa e anche qua possiamo dire che siamo in presenza di un'altra euristica sociale di altro tipo cioè di approvazione sociale proprio perché da una parte c'è una importante figura all'interno dell'istruzione appunto essendo una professoressa una figura professionale legata all'istruzione dall'altra parte ci abbiamo un'allieva quindi figuriamoci questo ribaltamento dei paradigmi genera un'autorità sempre sulla Bibbia possiamo dire che c'è un'altra euristica cioè però direi più bias a sto giro una semplifica una un'inclinazione mentale il bias è un'inclinazione ecco il bias qual è? la Bibbia è il libro di Dio perché se lo studente è qua e studia per tanto questo bias è molto probabile che ce l'abbia cioè è quasi sicuro o è sicuro che la Bibbia è il libro di Dio quindi si fa leva sull'autorità della Bibbia perché genera un'autorità questo bias verso lo studente però loro si avvalgono di altri libri per interpretare il testo di riferimento che è la Bibbia quindi la Bibbia non si studia in ambito scientifico letterario semantico grammaticale da qualsiasi punto di vista filologico esegetico possiamo parlare di di queste cose che sono più no? sono più specifiche più scientifiche ma si valuta tutto seguendo una dottrina un filone di pensiero un'interpretazione che è del tutto arbitraria cioè si fa dire a quel libro lì sostanzialmente quello che si vuole tenendo sempre conto che la Bibbia dei testimoni di Giova è manipolata i testimoni di Giova vi potranno dire sta cosa qua voi che siete studenti ah guarda che possiamo utilizzare qualsiasi Bibbia loro si fanno forza su sta roba qua per vedere la manipolazione bene bisogna guardare l'interlineare che vi fa vedere bene quali erano le parole usate soprattutto io vi dico le manipolazioni sono belle chiare nel nuovo testamento in lingua greco antico perché? perché l'ebraico antico è una lingua polissemica cioè un termine può voler dire tante cose quindi c'ha un ventaglio molto ampio di interpretazione invece la lingua greca antica è una lingua monosemica mi verrebbe da dire cioè il significato della parola è scritto dentro la parola cioè apostasis apostasia vuol dire stare fuori apostasis ap vuol dire fuori o lontano adesso non mi ricordo bene lontano o fuori stasis vuol dire stare stare fuori l'apostasia è chi sta fuori l'apostata è chi sta fuori ecco il significato te lo dà la parola ok? quindi il greco non si scappa le manipolazioni si vedono chiare e ci sono e io ho un'intera playlist sulle manipolazioni bibliche quindi non fatevi ingannare da questa retorica le manipolazioni ci sono ci sono soprattutto quando si parla in riferimento alla deità o divinità di Cristo e lì ce ne sono aiosa solo che lo studente biblico non ha la capacità di capire ad esempio se non ricordo male Giovanni 1.1 la parola era Dio e la parola era un Dio quell'articolo indeterminativo un non esiste cioè non c'è nel testo greco capito? l'hanno messo loro proprio per far capire che non c'ha nulla a che fare con la divinità con l'essere Dio per quanto riguarda Gesù è una manipolazione ma ve ne potrei dire altre che ora non tratterò quindi lo studente di quell'un un se legge la versione CEI o legge la versione dei testimoni di Giovanna TNM non ci fa a caso perché non è abituato a valutare così precisamente la grammatica chi è lì non fa conto che il linguaggio è manipolatorio la manipolazione è questa mi sono fatto un po' di pasta posta taci ora tanto abbiamo da leggere il punto 5 e poi guardare questo video quindi mentre mangio magari vi faccio andare a questo punto 5 leggere la Bibbia può essere piacevole a molte persone piace leggere la Bibbia e la trovano utile ascolta l'audio del video leggere la Bibbia a volte faccio fatica a leggere è una vera sfida se mi piace leggere direi di no non lo so non mi interessano i libri li trovo noiosi mi distraggo facilmente devo fare uno sforzo per mettermi a leggere potrei fare tante altre cose non amo i libri ma leggere la Bibbia mi piace per me è più di un semplice libro ne vale davvero la pena c'è chi dice che non è utile per i nostri giorni ma quando ti soffermi su quello che dice impari sempre qualcosa mi ha aiutato a pensare prima di parlare mi interesso di più degli altri come stanno come vanno le cose così posso aiutarli leggere la Bibbia mi ha reso una persona migliore mi dà la carica per affrontare la giornata credo che il libro della Bibbia che mi piace di più sia quello dei salmi perché è facile da capire ed è molto anche se leggete la critica della ragion pura di Kant cioè anche se anche se leggete la ragion pura di Kant diventate una persona migliore anche se leggete il Fedro di Platone la Repubblica di Platone o qualsiasi altro libro di filosofia o qualsiasi altro libro in generale che vi può dare qualcosa in insegnamento ce la siamo già detti prima molto interessante i ragazzi possono andare su jw.org e trovare la Bibbia in varie versioni e formati puoi cercare un determinato versetto e trovare vari articoli che lo spiegano un'altra cosa che mi piace tantissimo sono i nuovi video quelli che introducono i singoli libri della Bibbia bastano due o tre minuti per farti un'idea del libro che stai per leggere questi video sono davvero utili scelgo gli argomenti che mi interessano cerco proprio gli argomenti che mi coinvolgono che mi interessano in prima persona così leggere diventa piacevole è molto molto utile e importante può aiutarti a trovare la felicità in fondo chi non la vorrebbe ai ragazzi del video nella conferenza che vi ho messo scusate la mia maleducazione se mangio ma volevo continuare questo video perché sennò devo fare un sacco di tagli nella conferenza di Mancuso che vi ho messo lui spiega bene la differenza tra gioia e felicità la gioia è quella interiore quella che scalda diciamo l'anima diciamo così per capirci la felicità è un'emozione spesso viene senza rendersene conto la gioia invece è una condizione una virtù questa gioia è una virtù che bisogna coltivare non si ci arriva così dall'oggi al domani è un viaggio dentro se stessi nella vita che deve raffinarci migliorarci il Mancuso come me condivide questo questo aspetto che non tutti ci arrivano è una cosa di alcune persone non tutte ci arrivano altre persone vanno alla parte opposta e non e sia io e lui non ne capiamo proprio bene la ragione ma ovviamente i testimoni di Giovatti direbbero però guarda caso loro parlano di felicità che la felicità è un'emozione si può essere felici per una cosa che è successa quel giorno lì non è una virtù la felicità capito la virtù è un'altra cosa andiamo al prossimo che è la parte 2 la Bibbia dà speranza ovviamente prima ha fatto vedere tutto il male del mondo eccetera poi si va sulla speranza lezione 2 la Bibbia dà speranza in tutto il mondo le persone affrontano problemi che generano ansia tristezza e sofferenza è capitato anche a te di vivere una situazione difficile forse stai soffrendo a causa di una malattia o perché hai perso qualcuno a cui volevi bene magari ti chiedi c'è speranza che le cose migliorino la Bibbia dà una risposta rassicurante a questa domanda punto 1 perché si può dire che la Bibbia dà speranza la Bibbia spiega perché il mondo è pieno di problemi ma non solo dice anche che questi problemi sono temporanei e presto spariranno grazie alle promesse della Bibbia possiamo avere un futuro e una speranza Geremia 29 11 e 12 dice infatti dichiara Geova io conosco bene i pensieri che nutro per voi voglio che abbiate pace non calamità e voglio darvi un futuro e una speranza voi mi invocherete verrete da me e mi pregherete e io vi ascolterò queste promesse ci aiutano ad avere un atteggiamento positivo e ad affrontare bene i nostri problemi ci assicurano anche che potremo essere felici per sempre qua c'è ovviamente un'altra falaccia di logica cioè non è come ci siamo detti qua sfruttano l'euristica la Libra la Libra la Bibbia è il libro di Dio quindi ci dà speranza che risolverà i problemi in futuro Dio toglierà tutto il male eccetera eccetera che è come dire Sauron verrà sconfitto sarà sconfitto nel Signore degli Anelli e la Terra di Mezzo tornerà ad essere in pace è un libro è un libro rimane un libro questo è non è perché in un libro c'è scritta una cosa allora significa che ci sarà speranza il futuro anche perché mi dovete spiegare veramente banalmente veramente banalmente ma un Dio che voi pensate essere un Dio d'amore la narrazione del Dio Cristiano è così Dio è un Dio d'amore si fa molto leva su questo aspetto qua l'amore l'amore ma perché un Dio d'amore dovrebbe aver maledetto l'umanità per poi sacrificare suo figlio metterlo farlo mettere a morte e sacrificio e spiare il male del mondo ma che una persona del genere sarebbe identificato come uno psicopatico qua nessuno di noi nessun padre a meno che non sia appunto psicopatico nessun padre senza disturbi mentali farebbe una cosa del genere capite bisogna anche un attimino essere un attimo concreti nelle cose noi siamo fatti dice la Bibbia immagine e somiglianza bene siccome siamo fatti immagine e somiglianza i parametri etici dovrebbero essere uguali sia per noi che per Dio tant'è che l'essere umano ha quella cosa che si chiama empatia che ce l'ha di natura dovrebbe avercela o svilupparla nei primi anni di età insomma ce ne sono tante di teorie ma non una certezza realmente concreta però una buona indicazione che l'empatia un po' può essere anche una condizione di base perché chi è pass è predisposto altamente all'empatia anzi direi che è una cosa naturale per un pass essere empatico però poi la si sviluppa anche nei primi anni di vita in una condizione traumatica l'empatia potrebbe venire meno appunto generarsi quella che si identifica spesso come una sociopatia la sociopatia non si ci nasce si ci diventa sociopatici a differenza o anche con un disturbo antisociale per dire o narcisisti lo psicopatico ad esempio nasce in una condizione di psicopatia la psicopatia è l'apatia emotiva cioè un'apatia praticamente una quasi una quasi totale assenza dell'empatia o totale proprio tra gli psicopatici ci sono i serial killer ad esempio giusto per farvi un esempio quindi insomma bene umano i parametri dei comportamenti umani li conosciamo e pensare che questa raffigurazione antropomorfa direi di dio antropocentrica come se noi fossimo al centro dell'universo l'essere umano sempre superiore alla natura sempre al centro dell'universo è una spiegazione superata da tantissimo tempo l'essere umano si deve rassegnare che non è l'universo non gira intorno a lui e dio non sta a guardare ammesso che esiste insomma apriremo veramente un campo infinito se esistesse ecco partiamo da questa se esistesse il dio della bibbia sarebbe una persona con dei problemi mentali perché perché è stato scritto da culture arcaiche di un certo tipo culture anche di guerra come gli israeliti appunto nella nella bibbia andiamo avanti punto 2 cosa dice la bibbia del futuro la bibbia descrive un futuro in cui la morte non ci sarà più né ci sarà più lutto né lamento né dolore rivelazione o apocalisse 21 4 dice ed egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più né ci sarà più lutto né lamento né dolore le cose di prima sono passate i problemi che oggi ci fanno soffrire come la povertà le ingiustizie le malattie e la morte non esisteranno più la bibbia promette che gli esseri umani potranno vivere per sempre felici sulla terra nel paradiso punto 3 come puoi convincerti che le promesse della bibbia si realizzeranno molti sperano che le cose migliorino ma non possono essere sicuri che le loro speranze si realizzeranno la speranza che offre la bibbia invece si realizzerà di sicuro molti sperano che le cose migliorino ma non possono essere sicuri che le loro speranze si realizzeranno e poi dicono la speranza che offre la bibbia invece si realizzerà di sicuro va bene vediamo un po' vediamo cos'è questa sicurezza vediamo un attimo io sono aperto a capire questa sicurezza da dove arriverà esaminando attentamente le scritture come dice Atti 17 11 è possibile convincersi che le cose stanno proprio così convincersi è molto interessante questa parola vediamo un attimo l'etimologia convincere etimologia sono curioso convincere latino indicare mezzo super ridurre ah ok non me lo legge bene con prove indiscusso con ragioni inata da mettere o riconoscere ok persuadere è un termine particolare convincere riferito alla fede non trovate anche voi apostatacci cioè convincere mi sembra strano legato alla fede la convinzione nasce da un atto di persuasione è la risposta a un feedback una risposta positiva di feedback come si direbbe in comunicazione cioè di un risponso dall'ascoltatore che risponde in maniera positiva alla persuasione cioè l'hai convinto questa è persuasione retorica la persuasione sociale cosa c'entra con la fede la fede dovrebbe essere qualcosa di interiore qualcosa che si ci sente riferito a qualcosa di superiore a noi la fede spesso non ha delle ragioni proprio per questo la fede e la ragione vengono un po' utilizzate come opposte mi viene sempre in mente il titolo del libro che mi aveva regalato Stefano le ragioni le ragioni della fede vedete le ragioni della fede e il titolo è ovviamente il titolo è ovviamente volutamente uno simor cioè la ragione non ha la fede non ha una ragione perché la fede si basa su qualcosa che non possiamo esperire nella realtà le ragioni quindi non sono uno simor è chiaramente una sorta di provocazione mi viene da dire questo questo titolo devo finirlo di leggere ancora io purtroppo quei libri sono lento mi fermo ogni due righe ma per dirvi che appunto la convinzione ha poco a che fare secondo me con la fede se mai è la vocazione o la vocazione per questa cosa qua la fede non è soltanto teologica può essere anche di altro genere può esserci come si dice anche in gergo anche nel comune modo di dire fede calcistica oppure ho la vocazione per la musica non c'è una ragione te lo senti quando si ama anche una persona l'amore dobbiamo metterci nell'ottica che non è legato al razionale l'amore non è legato al razionale l'amore è irrazionale spesso si dice ma perché mi ami a me viene da dire ma perché mi fai questa domanda l'amore è irrazionale quando si ama una persona non c'è una ragione specifica se entriamo nell'ambito della ragione stiamo già esondando stiamo cercando di capire che l'amore possiamo dire possiamo elevarlo a virtù ecco in questo senso mi viene da dire l'amore è quello vero perché oggi si dice amore si fa un po' fatica a capire che cos'è questo amore poi magari ci dedicherò un video a parte ma io parlo dell'agape o l'agape come si accenta l'amore è legato all'irrazionale spesso quando amiamo qualcosa anzi sempre in realtà se proprio indaghiamo la radice di quell'amore cioè il nucleo la singolarità mi verrebbe da dire della nostra emozione la singolarità mi è venuto proprio un bel paragone devo dire la singolarità dell'amore ci scriverò sopra un libro la singolarità in fisica è la parte centrale perfetta del centro gravitazionale di un buco nero i valori della singolarità all'interno del buco nero raggiungono una unità di misura che viene identificata come infinito incalcolabile irrazionale si può dire perché sfugge alla razionalità dell'uomo per questo io quando parlo che l'universo è come il corpo umano e su questo veramente ci sto scrivendo un libro forse anche forse anche troppo pretenzioso far capire che l'universo conserva forse una parte maggioritaria di subconscio che è molto simile a quello di noi esseri umani cioè l'universo c'è una parte razionale bisogna farci conti con questa parte razionale è un libro molto filosofico attenzione non voglio fare una roba di fisica che non è il mio campo una cosa molto filosofica ovviamente agganciandomi a qualche concetto fisico però la filosofia è tutto insomma torniamo all'argomento perché se no veramente mi viene da dire qualsiasi cosa però penso sia giusto che io vi parlo di queste mie riflessioni la convinzione è qualcosa che si lega a un convincimento persuasivo non c'entra nulla con la fede che ha una base irrazionale sostanzialmente tutto questo studio che sta facendo lo studente non ha senso ve lo dico proprio chiaro non ha senso perché si sta cercando di razionalizzare l'irrazionalità come si fa? non si può sono due cose diverse sono due cose differenti la ragione definisce nella realtà la ragione definisce l'irrazionalità indefinisce cioè sono proprio agli opposti la ragione questo libro è un libro per l'irrazionalità questo libro non è un libro capito? per l'irrazionalità questo libro potrebbe essere un piatto dove io metto gli spaghetti e me li mangio potrebbe essere un'arma impropria lo lancio addosso a qualcuno potrebbe essere un frisbee o ci posso fare uno sport lancio al libro quindi diventa un attrezzo da utilizzare come sport me lancio al giavellotto faccio il lancio al libro per l'irrazionalità questo libro è indefinito non è un libro è indefinibile già che io sto utilizzando il libro per spiegarvi che non è un libro quindi io già ho un cortocircuito logico perché io ho bisogno della ragione per spiegarvi il concetto questo non è che ho in mano questa cosa che ho in mano non è per l'irrazionalità capito? siamo anche un po' in un ambito quasi paradossale mi avrebbe da dire ecco la fede seguirebbe questa logica illogica irrazionale se attenzione se è vera fede o se non è bigotteria bigottumeria perché io credo che ci siano persone che conservino una fede sincera e le si riconosce abbastanza bene sono persone che non parlano mai di religione non rompono i coglioni con la religione non ti rompono i coglioni se non credi alla loro religione non cercano di conflutare dal punto di vista logico razionale io infatti con i religiosi mi ci diverto un sacco a punzecchiarli con la razionalità e loro vedi che vanno fuori di testa fatemi prendere qualche soddisfazione ogni tanto è bello vedere le reazioni degli esseri umani io mi reputo un po' uno studioso in questo senso anche perché con l'attività che faccio mi serve capire l'essere umano in questo ambito come reagisce a certe circostanze quindi il convincimento lasciamolo a casa cari testimoni di Geova o studenti il convincimento è come il venditore che viene dalla della Folletto vi arriva a casa vi convince che l'aspirapolvere fa per voi vi ha convinto e vi siete presi quel prodotto lì siamo in un ambito di marketing anche io potrei farci un discorso infinito ormai su sta roba qua però direi di andare avanti insomma il convincimento non mi non mi convince usate il gioco di parola il convincimento non mi convince in ambito fideistico piuttosto io parlerei di vocazione ma se parliamo di vocazione capite bene che tutto questo studio ridicolo che fanno i testimoni di Geova e tutta la teologia che secondo me è una razionalizzazione dell'irrazionale decade io infatti sono totalmente contrario e non do nessuna valenza alla teologia vi devo essere sinceri che nessuno si scandalizzi ognuno la pensi come vuole io non giudico nessuno ma penso che il mio pensiero sia legittimo razionalizzare l'irrazionale è proprio la più grossa minchiata che l'essere umano può fare e purtroppo faccio anche una critichina all'ambito scientifico questo è un po' il problema della scienza la scienza è ovvio che cerca di definire razionalizzare però mi sembra che non si sia resa conto che ci sia un irrazionale e lo sa che c'è perché in psicologia in filosofia si parla l'irrazionale cos'è? la follia è il non scopo è il è il la follia è la contraddizione è il paradosso io posso essere allegro e triste allo stesso momento per la follia posso essere nel mio posto di origine però a New York nello stesso tempo vi ricorda qualcosa? i sogni i sogni sono follia ovviamente intrecciato con aspetti razionali ma principalmente sono follia perché? perché attingono dal nostro inconscio che è follia l'essere umano ha una base predominante di follia poi ha una sovrastruttura che si chiama io che è mediatrice tra l'inconscio e la sovrastruttura sociale il superio e quindi l'io si pone in mezzo tra superio e inconscio l'io deve essere in equilibrio per avere la salute psicofisica cioè se predomina l'inconscio è un problema si sviluppano dei problemi mentali e magari le persone vanno in giro nude perché vedete persone andare in giro nude perché sono folli perché hanno perso la determinazione e sono nell'indeterminazione questo è non hanno più il concetto il significato i significati perdono completamente di valenza e le persone vanno in giro nude oppure se c'è un'esagerazione se c'è come si dice un po' in gergo psicologico c'è un'ipertrofia del superio significa che ci saranno dei disturbi di che io chiamo repressivi cioè quei chiari disturbi che l'io viene schiacciato dalle regole sociali e qua nascono quei disturbi che sono le manie compulsive è un eccesso di razionalità di razionalizzazione capito e da qua ecco questo è un mio problema io ho un superio che la dottrina dei testimoni di Giova mi ha stimolato si può dire diventando ipertrofico le manie di controllo che ho sviluppato io le controllo ad esempio che se vado a fare un viaggio devo sapere dove c'ho magari la stazione sanitaria più vicina se non sono in un luogo sperduto se è tutto questo è una è una ipertrofia del superio o super ego vedete cioè quando si inizia a capire come funziona la struttura psichica umana poi si ci deve muovere per capire come risolvere questo problema siete d'accordo? io direi di andare avanti che studiando la Bibbia potrai valutare tu stesso se quello che dice riguardo al futuro è degno di fiducia quasi ora vai più a fondo andiamo a fondo andiamo a fondo esamina alcune promesse riguardo al futuro contenute nella Bibbia nota come la speranza che dà la Bibbia aiuta le persone già oggi punto 4 la Bibbia ci dà la speranza che potremmo vivere per sempre senza sofferenze guarda le promesse della Bibbia elencate di seguito quali ti piacciono di più? perché? immagina di vivere in un mondo dove nessuno soffrirà invecchierà o morirà immagina di vivere in un mondo dove nessuno soffrirà o morirà rivedranno i loro cari che saranno riportati in vita sulla terra tutti nessuno si ammalerà o avrà delle disabilità tutti godranno di buona salute e avranno tante energie nessuno subirà ingiustizie nessuno soffrirà a causa di una guerra nessuno sarà tormentato da pensieri tristi o ricordi dolorosi al contrario tutti avranno cibo in abbondanza una casa confortevole un lavoro soddisfacente vivranno in pace vivranno per sempre in condizioni ideali e anche qua cari apostatacci io mi sento di entrare ancora in ambito filosofico vi faccio cerco di pensare un attimo a un termine di paragone allora vi faccio questa domanda voi come fate a sapere che state bene fisicamente di salute o di mente voi rispondereste penso la maggioranza di voi io sto bene perché perché non ho problemi di salute giusto vi faccio un'altra domanda voi come fate a sapere qual è la differenza tra il bene anzi anzi voi come fate a sapere qual è il bene e cos'è il male poi che sono concetti secondo me più etici che filosofici si anche filosofici però nascono dall'antropos dall'essere umano sostanzialmente non sono concetti presenti in natura ce l'abbiamo noi esseri umani questa differenziazione etica tra bene e male perché spesso il male può avere delle componenti di bene e il bene può avere delle componenti di male e in questo i taoisti con lo yin e yang la filosofia orientale veramente era avanti sotto questo punto di vista la concezione dell'equilibrio tra il femminile e il maschile il bene e il male o il giorno e la notte insomma una componente non nega l'altra totalmente c'è una sinergia di fattori ecco diciamo che la visione dei testimoni di Geova è una visione che a mio avviso è inconciliabile con le leggi universali che hanno contraddistinto l'universo da 13,7 miliardi di anni a questa parte perché è quanto mai chiaro se ragioniamo dal punto di vista filosofico che per capire il significato del bene il male sia purtroppo necessario dico purtroppo però umanamente perché alla natura non gliene frega niente cioè sapete noi esseri umani magari abbiamo un animaletto da compagnia io ne ho persi e ci ho sofferto anche tanto noi vediamo questo esserino dolce indifeso pelosino no che ci ama che ci segue ci vuole bene vive per noi no e noi viviamo per lui e non vorremmo mai che qualcosa succedesse a questo nostro amico meraviglioso no eppure alla vita alla natura ma la natura non quella degli alberelli così alla natura proprio intendo nella sua massima espressione universale cosa gliene frega in questo leopardi secondo me docce la matura matrigna dà e toglie come diceva in a silvia che è la mia poesia preferita in assoluto a silvia la poesia più bella mai scritta secondo me è natura natura no perché non dai quel che prometti all'or perché di tanto inganni i figli tuoi per me non c'è frase più più incredibile a livello poetico di questa e anche filosofico proprio filosofico qua siamo questa la poesia quando è filosofia è è veramente incredibile cioè perché non dai quel che prometti lui pensava una ragazza giovane bellissima di cui si era innamorato che guardava mentre lui stava scrivendo no mentre era d'affarato nelle sue cose e e lui vedeva questa ragazza non sappiamo con certezza se si chiamasse Silvia ma la vedeva nel suo massimo splendore come capolavoro della natura no come sublimazione massima della della divinità quasi mi verrebbe da dire questa Silvia il un po' come Dante aveva messo Beatrice nel vedete come si legano poi i concetti no cioè i concetti vengono da soli l'amore è Dio il irrazionale perché Dante ha messo Beatrice là su lassù e perché Dio è irrazionale e l'amore irrazionale perché Dio se la divinità va ricercata nell'irrazionale ma la divinità non la divinità delle religioni lo sapete che io non parlo di Dio delle religioni io parlo del Dio in quanto universo ok ecco Silvia tornando al discorso di Silvia di Leopardi vede questa ragazza nello suo splendore dei suoi anni una ragazza giovane a un certo punto viene stroncata da una malattia e muore Leopardi fa vedere quello che dà la natura o natura natura perché non dai quel che prometti ma come natura ma tu ci hai dato tutto questo tu ci hai dato tutto questo per cosa per togliercelo qual è la tua etica vedete il il dramma dell'essere umano è che non trova un'etica alla natura ed ecco che interviene la religione che è l'eticizzazione scusate se non esiste sto termine uguale me lo invento io adesso è l'eticizzazione dell'impotenza e dell'incomprensione che ha l'uomo verso la natura è la razionalizzazione dell'irrazionale quindi sostanzialmente poi interviene la morte che fa svanire questa spinta vitale che la natura ci aveva dato questa volontà perpetua di continuare l'esistenza poi viene stroncata le persone soffrono ma la vita continua ad andare avanti perché c'è un grande disegno della natura un disegno collettivo ma noi abbiamo una soggettività siamo una coscienza un frammento di coscienza che ha un io vedete ha un io quindi ha una sua capacità di determinazione nella realtà può decidere cosa fare può decidere attenzione non sempre perché qua torniamo sempre al discorso della antropo antropo antropocentrizzazione dell'essere umano cioè l'essere umano mettendosi al centro si è dimenticato che poi ha scoperto che fin anche in ultima istanza la psicologia ci ha detto ma direi anche prima la filosofia e dopo la psicologia prima la psicologia con con Schopenhauer se non mi ricordo male che parlava della volontà appunto siamo arrivati a Freud che ci ha detto noi abbiamo l'inconscio l'irrazionale quindi tutte le scelte che facciamo non sono tutte razionali sono mediate dall'io ma se c'è una componente predominante di razionale c'è una comprensione che noi esseri umani non siamo così totalmente padroni di noi stessi spesso mi si dice non capisco come mai quella persona è partita di testa fino all'altro giorno era una persona che viveva normale adesso è uscito fuori di testa perché è così perché è così perché noi non siamo al centro di noi stessi finché la struttura psichica regge bene finché non regge poi siamo nella nella follia con tutte le sue conseguenze del caso ovviamente la follia non è socialmente accettata e diventa pazia no il pazzo non è accettato ovviamente perché perché la struttura sociale è razionale è razionale arrivo al punto di questo discorso alle due domande che vi ho fatto prima perché c'è il bene e perché voi distinguete ad esempio vi aggiungo un altro esempio da cosa distinguete il giorno dal giorno cos'è il giorno il giorno è l'assenza di notte la notte è l'assenza di giorno il bene è l'assenza di male il male è l'assenza del bene non non possono esistere senza il corrispettivo negativo o positivo questi concetti si possono capire sembra che l'universo ragioni per opposti che si sinergizzano insieme mi spiegate come si fa strutturare una realtà solo su uno di questi due opposti vi faccio un'altra domanda i batteri quando si moltiplicano loro non è che si riproducono maschio e femmina e fanno un figlio un batterio un batteriuccio il batterio si divide in due come fa la cellula anche no si divide in due mi spiegate perché l'essere umano invece o altri razzi animali mammiferi e altri animali hanno bisogno di una fecondazione maschio o femmina la natura poteva continuare evolversi su sul batterio noi potevamo essere come batteri si sdoppiavamo e nasceva un altro un'altra entità la natura ha voluto scinderci la filosofia parla tanto di questa scissione e l'uomo non lo poteva sapere ma lo aveva già dentro la filosofia lo aveva già capito Platone lo aveva già capito c'è qualcosa che ci manca c'è un'unitarietà che ci manca a noi esseri umani e indagando bene sul discorso evoluzionistico mi viene da dire che la risposta l'abbiamo quasi trovata questa unitarietà qua è l'unitarietà degli opposti che l'universo ha deciso che è la relazione tra gli opposti ad essere importante per definirsi l'universo è significato e significante ha bisogno degli opposti come fate a definire l'amore se non esiste un corrispettivo di odio indifferenza tutte le cose che sono contrarie dell'amore come fate a vivere in un mondo in un universo dominato solo dall'amore vi dico io una cosa che probabilmente sarà difficile da capire ma se noi fossimo in una realtà dominata dall'amore sapete una cosa? non sarebbe più amore rifletteteci un attimo in assenza del corrispettivo tutti i concetti si annullano tutti i concetti si annullano pensateci un attimo non sarebbe più amore se al contrario tutto l'universo fosse odio non sarebbe più odio sarebbe il nulla sarebbe l'indeterminate lo zero ecco lo zero sarebbe l'indefinito il nulla come potete pensare a una società dominata dall'amore senza essere inquietati dal fatto di trovarvi in una Orwell 1984 sarebbe un incubo sarebbe un incubo una realtà del genere sarebbe un incubo pensateci bene qual è invece l'amore quello vero è quello che si crea nonostante il male come l'odio c'è nonostante l'amore e allora qua mi verrebbe da citare Matrix quando l'oracolo dice a Neo sapete l'oracolo che gli fa vedere la scritta conoscite stesso ripreso appunto dalla cultura greca poi in latina nocete ipsum in greco non so come si pronuncia in latino nocete ipsum conoscite stesso ecco l'oracolo gli dice a Neo vedi Neo io il futuro lo posso comprendere ma quella cosa importante da comprendere è la scelta non tanto come vanno le cose ma l'importante comprende la scelta e allora io cosa vorrei dirvi apposta taci che per adempiere un discorso di amore tra esseri umani e verso tutto l'universo è la scelta che bisogna operare è fare una scelta io scelgo di essere la luce ma non scordatevi che c'è chi sceglie che sarà le tenebre e non scordiamoci che non esisterebbe l'amore se non esiste il suo corrispettivo e io non ci metto solo l'odio perché anche qua ci sono tante cose l'amore per me l'indifferenza è una grandissima una grandissima manifestazione anche di di male ma l'amore non si può non espletare diciamo così esercitare o provare se non essendo in un universo che contempla anche la sofferenza il male l'odio l'indifferenza l'egoismo noi siamo amorevoli amiamo gli altri e il tutto del mondo dell'universo perché sappiamo che non stiamo odiando ma se voi viveste in una società che è solo amore a parte essere inconcepibile ma sarebbe distopico una distopia totale e voi pensate magari potrebbe essere bello i primi anni i primi anni ma poi verrebbe meno anche un discorso esperienziale perché per raffinarsi per sviluppare una certa sensibilità è necessario anche la sofferenza l'ego umano in assenza di sofferenza sarebbe totalmente ipertrofico già viviamo delle situazioni di narcisismo spropositate nella nostra società voi pensate se gli esseri umani non soffrissero e non morissero mai saremmo veramente in una condizione assurda veramente assurda e senza senso cioè diventerebbe senza senso una realtà del genere non avrebbe senso cioè un dio che fa una roba del genere sarebbe stupido sarebbe stupido e dio non è etico attenzione perché noi stiamo parlando di un dio etico antropomorfo ecco dove cade sempre la religione un dio etico antropomorfo l'eticizzazione della natura invece noi dobbiamo parlare di un universo razionale irrazionale coesistono ci siamo detti andiamo avanti bene apposta tacci io direi di concludere questo video devo fare una ritrattazione perché le cose si vedono in corso d'opera non posso pubblicare un video di 10 ore perché vedo che da queste cose qua mi nascono troppi pensieri sono pensieri che secondo me è giusto che io tiri fuori e quindi questa qua sarà una serie di playlist una playlist lunga di video lunghi che potreste potrete poi comodamente andare a vedere quindi metterò sia dei capitoli interni nei vari video e farò una playlist di tutto questo studio della studio tra virgolette della bibbia dei testimoni di geova io spero che questo video vi sia piaciuto facciamo così se la community appretta lo porto avanti se no io reputo chiuso questo studio qua cioè per me è già demolito dalla radice una roba del genere ma se volete che lo porto avanti io valuterò quanti mi piace quante visualizzazioni quanto tempo di visualizzazione fa i commenti se sono tanti positivi negativi eccetera altrimenti io non vado avanti con questa playlist e tengo solo questo video qua è apposta tacci facciamo così fatemi vedere se gradite che vada avanti magari scrivetemelo anche nei commenti ripeto valuterò tutti i dati che mi arriveranno in linea generale però detto questo io vi ringrazio di essere stato in mia compagnia spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima ciao posta tacci ciao ciao ciao